bentornati amici in questo nuovissimo video calcistico oggi sono fomentato sono fomentato mi sono svegliato da non troppo e ho avuto un risveglio o questo male al collo da 23 giorni che che mi sta attanagliando ieri io non ho fatto il video apposta perché figa veramente un male terribile stamattina mi sono svegliato che avevo il collo praticamente bloccato ora leggermente meglio allora oggi video su calciomercato perché possiamo parlare solo di questo fortunatamente tra non molto dovrebbe esserci forse il 24 la partita con l'olbia o forse addirittura oggi non lo so no forse non è oggi il 24 mi sembra ah no il 24 saliamo in ritiro forse oggi oggi c'è la partita con l'olbia e non me ne ricordavo sono una vergogna probabilmente oggi domani non lo so in ogni caso scrivetemelo nei commenti questo video lo vedete il pomeriggio del 21 che quando lo sto registrando ovvero lo sto registrando la mattina parliamo di mercato ad oggi alle 10 e 15 il 21 07 2023 queste sono le considerazioni allora partiamo da che cosa dai difensori ragneri ha chiesto un difensore esperto centrale io ripeto è giusto che al di là delle considerazioni personali si facciano delle si 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 soddisfino richieste dell'allenatore perché se poi l'allenatore inizia a fare il muso ad essere scontento alla fine cioè all'inizio della fine le abbiamo già viste queste cose con semplici nelle altre squadre sempre succedendo quindi allora accontentiamolo poi io vi faccio le mie considerazioni cioè io vi dico che se il nome dovesse essere effettivamente palomino come ho letto onestamente io se non andrei a cedere gol da liga per prendermi palomino se devo tenermi uno onestamente questa è la mia sincera anche perché palomino tra l'altro uno che ha quasi sempre giocato con la difesa 3 è uno che è abituato a un sistema di gioco diverso questi hanno avuto diversi infortuni ha avuto il problema del doping quindi anche lì in faccenda che già gioco per robe dopo preferisco evitare e poi vi vi dico un'altra cosa cioè un ragazzo mi ha scritto e ma di palomino devi guardare le ultime sei stagioni prima di questa aveva avuto tutte stagioni giocando tutte le partite sì ma ascolta il fatto cioè in un 33enne non devi vedere le stagioni dai 25 ai 30 anni ok devi vedere l'ultima le ultime due stagioni se l'ultima stagione palomino ha giocato 15 partite non è un giocatore affidabile non è un giocatore attendibile quindi lo dico subito caro nereo palomino per quanto mi riguarda capisco che magari verrebbe per una manciata di lenticchie però non è un profilo adeguato non è per niente un profilo adeguato per a livello tecnico e tattico a livello tecnico e tattico poi dovesse arrivare voglio dire vabbè cosa volete che vi dica cioè come ogni giocatore che arriva al cagliere non è che facciamo il tifo contro nessun giocatore sono tutti i gaser sono tutti simpatici e dobbiamo sostenerli lo sapete l'atteggiamento che ho io nei confronti dei giocatori molto positivo però è chiaro che io devo anche fare delle considerazioni prima a me sinceramente non piace per niente come acquisto palomino onestamente se devo essere sincero mi piacerebbe invece moltissimo l'acquisto di ferrari l'acquisto di ferrari perché ferrari è un giocatore intanto parlo di palomino e la la luce si spegne chissà perché ferrari è un giocatore è un giocatore che comunque mancino e di mancino abbiamo solo obert in difesa che comunque ottimo è un giocatore che ha giocato quasi sempre a quattro e anche lì ottimo non devi reinventarlo tecnicamente e poi comunque è un giocatore che ha due anni in meno io direte no ma non devi vederle e no invece le devi vedere queste cose perché voglio dire ti arriva uno che ha come palomino che a gennaio febbraio quando è fa 34 anni mi sembra e ti arriva uno come come ferrari che invece adesso ne ha 31 cioè è una cosa un po' diversa voglio dire è una cosa un po' diversa anche a livello di futuribilità per quanto chiaramente anche uno a 31 anni non è che sia futuribile in gran modo però è comunque uno che volendo per due tre stagioni lo puoi utilizzare magari parte da titolare per poi essere un ripiego di obert esempio ok però onestamente se serve sto grande centrale di esperienza ma io vado su ferrari tutta la vita ma tutta la vita per 10.000 fattori il fatto che comunque uno bravo abbastanza nell'impostazione ed è quello che vuole ragnarli quello che serve il fatto che comunque un esperto il fatto che esperto nella difesa 4 non devi reinserirlo come è successo con Altare che ha avuto una marea di problemi guardate che i meccanismi defensivi dal 3 a 4 sono meccanismi importantissimi importantissimi cambia da così a così la difesa ok cercate di capirlo cercate di capirlo la differenza qual è che con palomino mi dispiace me lo dico da subito non sarò attendista cioè io da palomino se dovesse arrivare io voglio le prestazioni da 6 no da 6 da 7 in pagella subito subito perché arriva un giocatore da 33 anni che al passato che ha avuto e che arriva richiesto da ragneri cioè allora se ragneri richiede un difensore di un certo tipo esperto l'esperto io sto esperto a voi il difensore esperto però questo difensore esperto da subito mi deve dare delle prestazioni da 7 caro ragneri lo dico anche a te perché onestamente su sta scelta dell'improntarsi sto difensore esperto io capisco che ci vuole esperienza incertezione del campo e anzi sono favorevole però onestamente io non vedo sto grande upgrade lo dico molto sinceramente da palomino a golda niga cioè non lo vedo non lo vedo anzi vai a togliere un giocatore che comunque fa parte dello zoccolo duro della promozione cioè al di là di tirar fuori il zoccolo duro mancoso robe a me golda niga pare uno assolutamente in grado mi sembra anche un leader nello spogliatoio quindi vabbè comunque arriva palomino ferrari sembra cioè sembra più vicino palomino di ferrari speriamo che si riapra ferrari in qualche modo strano poi sentito anche kiriches santo buondio veramente in caso di kiriches veramente palomino a confronto è un è un sergio ramos ai tempi d'oro un sergio ramos prime poi velocissimamente su prati aggiornamenti praticamente non ce ne sono però continuano ad esserci delle indiscrezioni da testate vicino al cagliari su comunque una volontà del presidente in particolare il modo di portare il presidentazzo che vuole portare prati quindi il figlio del presidente che ci segue e lo salutiamo ciao giacomo che ci segue vuole portare il prati attenzione qualcuno si guarda i miei mercati quindi prati secondo me tra l'altro una scelta intelligente non affondare subito secondo me perché comunque dubito che ci siano squadre pronte a spendere 10 milioni per prati per un giocatore che comunque in serie c quindi per come si è messa la cosa è giusto trattare quella c probabilmente folle secondo me tre tre e mezzo è un comunque un'offerta sulla quale assolutamente si può ragionare penso per entrambe le parti per quanto a me prati piace tantissimo e per quanto a me comprati per fare un acquisto di una futuribilità incredibile però comunque detto molto onestamente questo è un altro ragionamento che volevo aggiungere alle considerazioni su prati cioè ad oggi per come siamo messi onestamente io vedo altre priorità rispetto a prati considerato l'arrivo di sulle mana considerato il centrocampo folto che abbiamo considerato gli scarti che abbiamo che probabilmente si sta aspettando il ritiro per valutarli tutti quindi questo è arrivati anche ufficializzati scuffette su cui non mi ripeto sono molto contento e speriamo vada bene e portato del sano nordismo a cagliari sano nordismo a cagliari viva i savoia augello ristagno io lo dico sinceramente augello non me ne vogliate un giocatore che sicuramente a livello di numeri assist cose gol è uno dei più positivi dell'anno scorso della sandoria un giocatore esperto ma che comunque ha 28 anni che ancora davanti 4 5 anni di carriera a grandi livelli quindi è un innesto importantissimo per la faccia sinistra attenzione poi la trattativa 2 milioni più barreca cioè questa è una trattativa da bonatiana da masterclass totale veramente che dobbiamo solo fargli i boccacciucci per per questa trattativa che è incredibile mi fa veramente troppo ridere ve lo dico però sinceramente fermo restando che la trattativa è da 10 ok ok in qualsiasi caso è da 10 a me augello sinceramente mi chiedete augello un giocatore che ti piace senza considerare come è arrivato la trattativa le cose è un giocatore che mi piace no ragazzi augello io le volte che l'ho visto nelle partite contro il cagliari o qualche così mi sembrava sempre un po uno scappato di casa sinceramente ma voglio dire sono pronto a rivalutarlo e speriamo speriamo che invece sia sia molto forte e corragneri faccia delle grandi prestazioni a me è sempre sembrato un po uno sciagurato cioè onestamente non è un giocatore che mi faccia impazzire sono sono sincero però vabbè pronti a rivalutarlo quindi vedremo poi invece ristanio non lo conosco la formula non mi entusiasma perché questo contro riscatto due milioni più alto dovesse fare una grande stagione verrà verrà sostanzialmente riacquistato sostanzialmente ci daranno due milioni quindi un prestito una una riconoscenza dell'inter del nostro della nostra valorizzazione queste cose non mi piacciono mai capisco che magari ci volesse qualcuno io ripeto su questi giocatori che non conosco aspetto il campo prima di dare giudizi perché sai se poi un giocatore che quest'anno ti fa la differenza dici sì è vero lo scazzo di aver valorizzato un giocatore di qualcun altro però comunque magari ti fa la differenza con quegli assist quel gol per salvarti ok quindi in tal caso ha senso ecco la cosa che a me darebbe super fastidio è se per esempio dovessi vedere un Kulfalidis ceduto in prestito perché se allora tu mi vai a prendere un ristanio con sto riscatto e contro riscatto io perdonatemi ma continuo a vedere Kulfalidis come un giocatore fortissimo che rischia di perdersi per colpa di scelte un po un po così scelerate da parte di tutti perché secondo me ripeto anche lui aveva bisogno di altra continuità quest'anno che non ha avuto non si sa per quale motivo soprattutto con i verani che addirittura non veniva convocato quindi questo è poi quindi voglio dire la priorità sono i nostri giovani se poi non c'è nessuno di nostri giovani che viene considerato valido allora ok però la priorità devono essere i nostri questo deve essere chiaro poi passiamo agli attaccanti che è il tema un po più dolente che si sta sviluppando in queste ultime ore allora Shomurodov io veramente voglio voglio morire nel senso che Shomurodov ema se torna a quello di Genova allora innanzitutto c'è una variabile da considerare che Shomurodov ha subito l'influenza di una di una tifoseria pazza in civile come quella di Roma ok quindi un giocatore che passa a Roma sotto quella tifoseria non sarà mai non potrà mai tornare come prima è un giocatore del 95 quindi non stiamo parlando di un fine carriera ok ancora 28 anni può ancora ma io vi devo dire se devo andare a sensazioni io personalmente non lo prenderei neanche regalato tolto da uno stipendio altissimo non so vabbè chiaramente non verrà per quello stipendio voglio ben sperare però dubito venga per meno di un milione allo spezia ha fatto ha fatto letteralmente cagare cioè andando a vedere i numeri ragazzi noi le squadre che vengono su e che hanno bisogno di salvarsi ok hanno bisogno di gol ora io qua non riesco non riesco bene a vedere forse ok allora abbiamo bisogno di gol Shomurodov ha fatto ha fatto un gol e un assist in 15 partite allo spezia alla Roma negli ultimi anni non ha non ha praticamente acchiappata mezza cioè ha fatto in 28 partite ok non ne ha giocate quasi mai da titolare tre gole quattro assist insomma al Genoa quella grande stagione ha fatto 31 partite otto gol e un assist cioè ragazzi non so in passato anche anche andando in passato qua dove che era al Rostov in Russia 28 partite 11 gol e 7 assist questa è la migliore stagione di Shomurodov poi ha fatto ha fatto 26 partite 3 gol e 2 assist stiamo parlando di un giocatore che 10 gol la stagione non te li fa ma non te li fa non te li fa cioè a meno che clipate non te li fa a meno che chiaramente magia di Ragneri però ragazzi non è che ci possiamo basare su ogni giocatore che arriva ah ma tanto c'è Ragneri che gli fa la magia cioè io sono contento di avere un allenatore così ma noi gli dobbiamo dare un materiale umano che non ci deve sempre fare delle magie magari un piccolo incantesimo ma non la magia al calderone le pozioni gli stregoni e cose cioè se no veramente viene fuori una roba allucinante quindi Shomurodov io onestamente valutiamo altri profili vi supplico vi scongiuro poi vi dico guardate anche da un fattore io sono molto un esteta su certe cose anche a livello estetico non gasa non gasa perdonatemi a me non gasa a me non gasa per niente a me non gasa per niente ve lo devo anche dire ve lo devo dire ve lo dico ci si basa sul fattore estetico assolutamente sì ok visto che critico sempre invece qua qua devo dire che il fattore estetico forse mi sta anche influenzando quindi Shomurodov no anche per il fattore estetico mentre invece ci sono sempre per gli attaccanti sembra e secondo me è uno dei più probabili per un arrivo questo Dovicas che questo è il capocannoniere delle redivise ed è un nome pazzesco ed è un nome veramente pazzesco per io lo ripeto lo conosco assolutamente no assolutamente no però guardo e vedo le statistiche ok è un ragazzo di un 86 che attenzione è un Borca Majoral lui è uno sì alto sì che ti può fare la prima punta in certe circostanze ok ma è uno che ti fa la prima punta ma anche la seconda c'è lui è quella via di mezzo non è prima punta vera è quella mezza prima punta mezza punta quella roba un po strana e ragazzi un giocatore che nelle divise la scorsa stagione ha fatto qua avevo iniziato forse addirittura comunque la scorsa stagione ha fatto 21 23 gol ha fatto 23 gol anzi 22 scusate 22 gol e 4 assist ok quindi stiamo parlando signori di un giocatore che i gol li ha che i gol li ha e tra l'altro vado anche indietro vado anche indietro quando era più giovane poi negli attaccanti è una questione di sbloccarsi mentalmente quindi se sbloccato mentalmente vuol dire che c'è vado anche indietro nelle stagioni comunque un giocatore che l'anno prima ne aveva fatti 9 a 10 in stagione e 3 assist l'anno prima ancora ne aveva fatti 14 in tutta la stagione e 4 assist quindi stiamo parlando di un giocatore che i gol nelle gambe questo li ha questo li ha questo un giocatore che se arriva se arriva e viene messo in un contesto giusto voglio dire i 10 gol tanto decantati secondo me ce li può avere nelle corde ok non conoscendolo ripeto non conoscendolo il database del direttore il database del direttore ok e poi un classe 99 è un classe 99 che quest'anno si fa 24 anni non è che adesso i classi 99 sono 20 anni ne hanno 24 ma è un giocatore estremamente futuribile è un giocatore che se tu riesci a comprare per delle cifre che ho sentito si cerca il prestito con obbligo a 8 ok 8 milioni se questo è un giocatore che ti fa 2 3 stagioni alla grande questo lo rivendi a cifre importanti anche questo bisogna valutare ok cosa che il signor show muro dove comunque ha già ha 28 anni assolutamente anche lui futuribile per i prossimi anni ma comunque voglio dire ti fa mettiamo anche che faccia qualche stagione buona ma non è che c'hai queste plusvalenze in testa da dire rivendo il messi d'Uzzekistan no quindi quindi dov'icas che è l'alternativa secondo me maioral ve lo dico subito poi anche qua magari la sto assolutamente ciccando ma ma secondo me dov'icas è l'alternativa a a borca borca maioral maioral io vi dico un giocatore che a me piace è un giocatore che anche lui ha quest'anno fa 27 anni quindi assolutamente non vecchio alla roma mi era molto piaciuto è un giocatore che forse ha avuto anche un po' di sfortuna in questi in questi anni nel senso che è andato in squadra un po' particolari magari non era proprio al centro del progetto sia un po' perso anche lì le scelte sono importanti però ripeto secondo me è un giocatore che in serie a alla roma in quella stagione dove aveva giocato poco ha fatto 10 gol e 4 assist in serie a e ha fatto 17 gol stagionali considerata l'europa league con un totale di 7 assist e quindi è un altro bel giocatore secondo me è un giocatore che al ieri può fare il suo anche lui alto 182 lui forse più ancora una seconda punta che una prima rispetto magari a un dove i cas però li vedo simili come giocatori li vedo simili a vedere le caratteristiche così vedendo anche 23 video su dove i cas mi sembra un giocatore simile quindi io personalmente escluderei l'arrivo di uno dei due qualora uno dei due dovesse arrivare a sto punto mi viene da dire speriamo perché voglio dire se l'altro show muro dove figa non ce ne prendessero due di fila poi un altro nome che è spuntato e petagna e petagna ragazzi è una puntata di questo canale da tempi non sospetti è un giocatore che lui è una vera prima punta io ripeto devo dire la mia ma a sto punto se se vuoi una seconda magari più seconda punta maiorale non lo so dove i cas quello che preferite prendete lui più petagna magari spendi io onestamente farei questa accoppiata qui vuoi una prima punta vera prendi petagna e ci affianchi uno che ti faccia anche la seconda all'evenienza come può essere maiorale come può essere perché ripeto la padula e paoletti lasciateli perdere dalle considerazioni paoletti soprattutto ma la padula cioè io li voglio bene gli sarò grato a vita per questa grande stagione ma io eviterei di affidarmi particolarmente alla padula per questa stagione cioè se iniziamo a non imbroccarne mezza i sostituti sono sto cazzo e pavoletti cioè voglio dire facciamoci il segno della croce altro che ragnere in panchina e robe perché poi diventa complicata petagna io assolutamente favorevole ma io ve lo dico assolutamente favorevole però un altro petagna se lo prendi lo devi prendere ora perché petagna è talmente grosso e grasso purtroppo che petagna ha bisogno di una preparazione fatta ad hoc per farlo entrare in forma se petagna ti entri in forma tu hai una prima punta che è fortissima hai una prima punta che non è che è una questione fortissima la prima punta deve saper fare la prima punta non ce ne sono più tantissime di prime punte vere non è un giocatore che dici ultra trentenne un giocatore che ha fatto 28 anni quest'anno anche lui classe 95 quindi anche qui ripeto sono quei giocatori che sono esperti perché sono esperti non salvezza servono perché a 28 anni sei super esperto però hai ancora davanti cinque anni di carriera ad alti livelli almeno un bacione ciao a tutti grazie a tutti della visione condividete ciao ragazzi